Mentre seguiamo questo percorso tortuoso, ma di cosa si tratta? Continua questa ricerca? Non lo so, non lo so. Comunque, mentre se ne vanno chissà dove, vi parlo brevemente appunto di questa bell picture disc che forse avete visto e anche di questa piccola iniziativa che riguarda due amici, ovvero Robby e Paolo, che hanno prodotto questo Segreteria Telefonica Show. Un libro e ancora una volta un disco abbinati, questa volta il disco però non contiene musica e il libro non è fatto di parole se non di quelle che potreste inserire nella vostra segreteria telefonica perché state per partirvene per le vostre vacanze, quindi tutti i messaggi dove arriveranno. Ovviamente qui un sacco di suggerimenti più questo bel dischetto che contiene un sacco di messaggi pre-registrati che potrete sfruttare per far crepare dalle risate tutti coloro che vi chiameranno. Quello che vediamo ora in questo momento invece, prima di precipitare nel delirio più infernale, è un servizio su Sixpence, non The Richer.